Attivare una licenza online per i dizionari Zanichelli. Da oggi è possibile attivare la consultazione dei dizionari Zanichelli in versione online con un semplice clic. Per attivare la licenza, è necessario essere in possesso della chiave di attivazione che è 1. Stampata in verticale nel bollino argentato SIAE posta all'interno della confezione dei dizionari cartacei o 2. Presente nei kit di attivazione venduti in libreria oppure 3. Acquistabile dal sito Zanichelli. Una volta in possesso della chiave, basta registrarsi a myzanichelli, my.zanichelli.it, entrare nella propria area, cliccare sul pulsante Attiva opera e inserire la chiave di attivazione. L'opera apparirà nella vostra libreria. Cliccate sopra la copertina e verrete subito indirizzati al servizio. La licenza annuale online individuale è valida per 12 mesi dal momento dell'attivazione. Buona consultazione!